Ho fatto sentire questo pezzo al mio cazzo, ora è il mio beef Bella raga, siamo gli Sphinx Ibra the boy Prince the goat Oggi faremo The People Versus con i nostri amici di noi Gang, yeah Partiamo con beauty allora Ok Ok Faccio Dash con la suola delle Gucci Allora, OTG, i Migos, gli Slings I Migos, no, i Migos minori degli Slings Oh ma non capisci un cazzo Vuol dire gli Slings sono meglio dei Migos Eh magari Eh magari, magari ci piacciono i Migos Fagli vedere il tuo spondo Eh non lo faccio usare raga Comunque io impazzisco perché il po' Alex Carr La canzone spacca ma il beat è inesistente A volte quasi noioso, non me lo aspettavo da LT LT Però sicuramente torneremo anche a fare i nostri beat Più beef, più dog e più movimentati G Squad Slings di un altro pianeta Mi spiace ma Villa non si può sentire Non è vero, per me la sua strofa è una bomba Secondo me lui ha spaccato, anzi Io il suo pezzo continuo sempre ad ascoltarmi Perché secondo me ha spaccato tantissimo Quindi io non la penso come te La squadra mi spiace ma sono contro Rap is life In tre minuti non c'è una barra decente Potevate fare anche di peggio però dai Mi dispiace Lo sappiamo anche noi Quando vorremmo fare un testo serio Magari lo faremo Per ora il nostro obiettivo è quello di divertire le persone Di far ballare Non quello di far pensare Allora E tu scappai Ma quello con i capelli rosa rappa O sta facendo un discorso? Ah no vabbè però Cioè non so se ti sta sfottendo Eh anche io non l'ho capita Comunque Frate ho provato a rappare Ho provato a rappare Ci ho provato Non era un discorso il mio Perché Non volevo fare un discorso Quindi Non ho capito bene questa domanda Ma il mio Pensavo fosse rap Poi io Sarai più bravo tu a rappare Va bene Ora Guardiamo i commenti di Biff Dennis Piva Bellissimo il fatto che tutti quelli che emergono Di Brescia Siano stranieri Portano stile diverso Che fanno solo Bene A va Italiano Grazie Questo è un bel commento E apprezzo tantissimo Anche perché Noi ci teniamo molto A A far bene Per i ragazzi stranieri Così perché Alla fine Siamo stranieri Quindi quando Vediamo che c'è rispetto Da parte dei ragazzi stranieri Siamo sempre contenti Quindi Bella per Dennis 22 channel Vedi la copertina E sembrano americani Apri il video E sono bresciani Eh sì Infatti Penso che si senta anche molto Che siamo bresciani Ci stiamo lavorando un po' Per perdere un pochino D'accento Perché si sente un po' troppo È un po' difficile A nascondere Nostro accento Allora Questo è Picio sui gatti Quando è partito Il ritornello Dei neri Con i capelli colorati Mi sono gasato Così tanto Che ho spaccato Il comodino Picio sui gatti Ma chi è il nero Il nero Con i capelli colorati Sarei Sarei io Ok ovvio Pollo Ho fatto sentire Questo pezzo al mio cazzo Ora è il mio beef Eh beh Senta cresciuto Bene Ringraziaci Allora O Max O official Dice Non ho ancora capito Questo cosa vuole Vuole il beef Frate Devi ronca Ti ho conosciuto Grazie a tuo padre Che mi ha montato La matrice È perché C'è mio papà Che fa le consegne E non so perché Ma quando va A tanti Quando vede dei ragazzi Così Gli dice Eh mio figlio canta E così Allora mi ha fatto promo Non faccio sponsorizzazioni Io mando Mando in giro mio papà Che mi fa pubblicità Non parla come Bobby Quattro sette sulla nuca Niga Bagliamo las moni Enea official Se la faccio sentire A mia nonna Probabilmente Smette di essere Lazzista Eh dai Speriamo Speriamo Allora Dobbiamo farla ascoltare Un po' di gente No è vero Questo mi sa che Non dovevo dirlo Lorenzo Cappelletti 035 Sei minuti Nella potuto fare Ah ah È il mio hobby Tra due riposti È vero Non dovete chiedere a me raga Questo Non lo posso dire io Quindi Sei minuti Non è così male Florex Ah questo è Vresciano Mavecio Ero lì In parte a voi Quando stavate Facendo il video Uff Potevo entrare Ship Sharop Not Stonks Eh È la parola Sena albanese Però non so bene Cosa vuol dire Eh comunque Eh dai Sarà per la prossima bro La prossima volta Che ci vedi Che sto girando il video Magari E ti vieni È che lì pioveva Anche ti saresti bagnato Però la prossima volta Vieni British H Stavo scopando Con la mia tipa E quando è arrivato L'attacco di Ibra A 1.20 Siamo venuti Entrambi Felix Rox Salvini Dovrebbe mandarvi via Dall'Italia Siete troppo americani Per noi Ah ok Ah ok Finito con i commenti Ci vediamo alla prossima Grazie agli amici di Noisy Bella E la prossima volta raga Siete più cattivi Più dei dog Bella raga Bella raga Siete più cattivi E la prossima volta raga Siete più cattivi